Tu mi riporti un tempo quando ho finito di scrivere il sergente nella neve, dopo essere stato pubblicato, venivo quasi considerato uno scrittore. E che ti succedeva? Mi succedeva che mi arrivavano delle voci strane, c'erano i professori che legevano il sergente e dicevano guarda questo come si permette di scrivere. I topi, punto, esclamativo e basta. Dice il lepre. Insomma lo passavano il libro con la matita rossa e blu. Per divertersi poi magari a farmi dire che come io, ignorante qual ero, mi fosse permesso di scrivere un libro. Non mi importava niente. Perché vedevo che quando questo libro l'avevo portato a Carlo il Pastore, Carlo il Pastore si miscia a leggerlo con tanto interesse e con tanto amore. E capiva tutto quello che avevo scritto. Ci sono le parole di Vislava Zimborska, la politessa polaca. Dice doveva essere migliore degli altri il nostro ventesimo secolo, ma non farà più in tempo a dimostrarlo. Agli anni contati, passo malfermo, il fiato corto, come vivere? Mi ha scritto qualcuno a cui io intendevo fare la stessa domanda. Da capo e allo stesso modo di sempre, come si è visto sopra. Non ci sono domande più pressanti delle domande in genere. Come vivere? Allora questa domanda ci dobbiamo porre non soltanto alla fine di un millennio, di un secolo, di un anno, ma tutti i giorni. E tutti i giorni svegliandosi si dovrebbe dire oggi che cosa ci aspetta. E allora io considero che si dovrebbero fare le cose bene perché non c'è maggiore soddisfazione di un lavoro ben fatto. Un lavoro ben fatto, qualsiasi lavoro fatto dall'uomo, che non si prepigge solo il guadagno, ma anche un arricchimento, un lavoro manuale, un lavoro intellettuale che sia. Un lavoro ben fatto è quello che appara l'uomo. Io coltivo l'orto, da qualche volta quando vedo le aiole ben tirate, con le tame ben sotto, con la terra ben spianata. Provo soddisfazione uguale a quella che faccio quando ho finito un buon racconto. Allora dico anche questo, no? Una tasta di legna ben fatta, ben allineata, ben in squadra, che non cade, è bella. Un lavoro manuale, quando non è ripetitivo, ricordo tempi moderni di Charlotte, è sempre un lavoro che va bene. Perché è anche creativo. Un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre quando mi incontro con i ragazzi, voi magari aspirate a avere un impiego in banca. Ma ricordatevi che fare il contadino, per bene, è più intellettuale che non fare il cassiere di banca. Perché è un contadino da sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. E allora tutti questi lavori che noi consideriamo magari lavori così, magari con un certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali. Quindi tu dici che si danno per buone una serie di… Prendizioni, no? Che il progresso, diciamo il progresso, la civiltà contemporanea ci dà. Sembrano realistiche. Sì. Bisogna diffidare di questo realismo. Eh ma per conto mio sì. Io domando, tante volte la gente, no? Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Salire nella montagna quando è ancora buio e aspettare il solgere del sole? È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dell'uomo vi può dare. Questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa. È un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa. Ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione. Che il sole ci porta ogni mattina. E sentirai per esempio il canto del codi rosso, poi sentirai il peti rosso, poi magari vedrai un capriolo, che il capriolo è un animale notturno, incominci a vedere che rientra nel bosco. Lo individui e poi sparisce. E immagini che è se vai, quella del cervo. E quando poi magari il cielo è chiaro e le stelle sono sparite, ti accorgi che sopra di te volo un'aquila. Ma prima hai sentito il brivido. Un pensiero anarchico. Un pensiero anarchico? Ma io guarda, per quanto mi riguarda, vorrei andarmene per l'eternità in giro per un bosco con un paio di sci. E cosa racconteresti? Prova a immaginare di metterli ai piedi e di raccontarmi quello che vedi. Volo, non sento freddo, non sento fatica. Vado con i miei ricordi, con i miei amori, con le persone care. Parlo con loro, godo degli alberi, parlo con gli alberi. In questo momento, guarda, sto incontrando un larice, che è un po' isolato sopra un pascolo. Sei in alto? Eh, sono abbastanza alto, sono verso i 1800 e i 2000 metri. Che cosa c'è su questo larice? Un galo forcello. Più sotto che altri alberi ci metti? Più sotto ci sono alberi di pieno muro, qualche macchia qua e là. E negli alberi di pieno muro, questi cespuli, il muro prostrato, ci sono le pernici bianche. E le pernici bianche sono come le anime dei nostri amici che sono andati di là. Stanno lì, sotto i pieni muro e sotto la neve, e spettano il ricordo che le risvegli. Come passano lente le ore. Il freddo aumenta con l'avvicinarsi della sera. Lassù non si è deciso ancora niente, gli spari sempre più radi, le raffiche sembrano stanche. Il cielo tutto verde celeste, immobile, come il ghiaccio. Gli alpini parlano poco, sottovoce fra di loro. E Gioanin mi si avvicina sotto la coperta, chi si è tirato sulla testa non dice niente. Torna via. Vorrei chiamarlo. Perché non mi chiedi se arrivare in imbaita? E' freddo, sera, neve, cielo uguali. A quest'ora il mio paese le vacche esce dalle stalle, va a bere nel buco fatto nel ghiaccio delle pozze. E dalle stalle fuori vapore, odore di lettame, latte, il dorsi delle vacche che fuma, cammini che fuma. E il sole fa tutto rosso, la neve. Nubi, montagne, volti dei bambini che gioca con le slitte sui mucchi di neve. Mi vedo anch'io tra quei bambini. Le case sono calde, le vecchie vicine alle stufie, aggiusta le calze dei ragazzi, ma anche laggiù. Per l'estremo lembo della steppa c'era un angolo di caldo. Neve intatta, orizzonte viola, alberi che si alzavano verso il cielo, betulle bianche, tenere e sotto queste un gruppo di isbe. Pareva che non ci fosse guerra laggiù. Fuori dal tempo, fuori dal mondo. Tutto come mille anni fa, come fra mille anni ancora. Lì aggiustavano aratri, cinghie dei cavalli, i vecchi fumavano, le donne filavano la canapa. Non ci poteva essere la guerra sotto quel cielo viola, quelle betulle bianche, in quelle isbe lontane nella steppa. Pensavo, voglio anch'io andare in quel caldo. Poi si scioglierà la neve, le betulle si faranno verdi, ascolterò la terra germogliare. Andrò nella steppa con le vacche. E alla sera, fumando maccorca, ascolterò cantare le quaglie nel campo di grano. D'autunno taglierò a fette le mele e le pere per far sciroppi. Aggiusterò le cinghie dei cavalli e gli aratri. Diventerò vecchio senza che mai ci sia stata la guerra. Dimenticherò tutto e crederò di essere sempre stato là. Guardavo in quel caldo e si faceva sempre più sera. E poi? Era un sogno. Il sogno anche di oggi potrebbe essere. A un certo momento però c'è qualcuno che ti chiama. Ti richiama la realtà. E devi essere presente in questa realtà. A un certo momento lì hanno gridato ad un'altra vestone, ad un'altra 55, che era la mia compagnia. E si è ripresa a camminare.